L'air stylist archiviata la relazione con Belen ha ritrovato la felicità accanto alla stilista marchigiana. Ormai è risaputo, dopo che Belen ha ritrovato la felicità accanto a Stefano De Martino, anche l'ex Antonino Spinalbese sta provando a fare altrettanto. Archiviato il flirt con la modella brasiliana Elena Prestes, pare che l'air stylist si sia già consolato. E, stato lui stesso a voler svelare la nuova frequentazione condividendo sui social alcuni dettagli della sua nuova fiamma. Dalla foto del corpo, ad una collana con la rosa del 20, passando per dei tatuaggi ben in vista e un braccio con un gioiello. Degli indizi che non sono sfuggiti ai commentatori del web che in breve tempo sono riusciti a dare un volto al nuovo flirt di Spinalbanese. Si tratterebbe di Giulia Tordini, sorella di Giorgia, creative director del brand teattico, nonché direttrice creativa del brand di gioielli Leda Madera. Diversi dei monili sfoggiati dalla nuova fiamma di Spinalbanese sarebbe firmati dal marchio, così come sarebbero riconducibili a Giulia alcuni dei tatuaggi della misteriosa donna accanto al 27enne. Ma chi è Giulia Tordini? Giulia, nasce a Civitanova Marche e come le tre sorelle è cresciuta circondata dalla moda. Il padre, Piero Tordini, è infatti designer di scarpe, mentre la sorella Giorgia è la fondatrice insieme a Gilda Ambrosio del marchio teattico, ma la vera ispirazione per Giulia è stata la nonna Leda Madera Marta Spinucci. Così per la ragazza è stato naturale seguire le orme della famiglia laureandosi presso lo IED di Milano. Dirigendo però la sua attenzione al mondo degli accessori. Giulia ha fondato nel 2019 il brand di bijou Leda Madera, che porta niente di meno che il nome della sua adorata nonna. Giulia è una vera hit girl milanese e nel suo profilo Instagram, seguito da oltre 100.000 followers, non mancano scatti negli stessi luoghi frequentati da spin albanese. I due si seguono a vicenda e nelle reciproche foto postate non mancano mai vicendevoli l'ichè. Possiamo considerare l'endorsement social una conferma della relazione? Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.